a volte diamo per scontato la nostra libertà e ci arrabbiamo se qualcuno ce la nega se qualcuno ci dice cosa fare e cosa pensare troppo spesso dimentichiamo che questo diritto ce lo siamo presi con la forza e che nessuno ci ha regalato niente neanche ciò che pensiamo ci ha scontato questo è merito di grandi persone coraggiose che hanno contribuito alla nostra libertà una di queste è maddalena cerasuolo eroina delle quattro giornate di napoli che nel 1943 si armò di fucile di coraggio per difendere la sua famiglia e il suo popolo dagli invasori se io adesso sono qui a parlarvi lo devo pure a lei mi chiamo gaetana morgese sono figlia dell'eroina delle quattro giornate di napoli maddalena c'era sua dopo l'8 settembre i tedeschi da che erano alleati diventero quei peggiori nemici della città e qui si seppe di traverso probabilmente un fascista portò questa notizia che volevano distruggere la città hitler diede l'ordine di ridurre napoli in cenere fango e quindi questo spinse a molte persone a molti giovani e anziani e ti devo dire persone di una certa esperienza militare ad unirsi perché non è vero che ci furono soltanto ti devo dire la popolazione gli scugnizi i preti ci furono tutti furono tutti sulle sulle barricate anche i fascisti fascisti redenti fascisti che poi dal da loro partì la notizia che hitler voleva minare il ponte della sanità il ponte della sanità è un ponte importantissimo ancora adesso sotto passano le condutture dell'acqua della corrente quindi se facevano saltare il ponte avrebbero fatto un danno enorme e quindi incominciarono ad organizzarsi mio nonno che era veterano era diciamo per l'epoca un'uomo positiva nel quartiere lo tenevano molto da conto e quindi lo è l'essere al capitano partigiano insomma lui si misa a capo e cerco di organizzare questa resistenza qua però nel quartiere non nella cittadinanza e quindi organizzo un poco la cosa e mia madre quando vede che il padre voleva fare tutte queste cose siccome l'era molto legata al padre disse no papa vengo pure io con te nonostante il padre disse di no e cosa mamma era capato non c'è niente da fare e si mise pure lì in mezzo e la prima azione che fece lei andò a cercare le armi perché poi si sono dovuta armare praticamente no e andarono per le caserme e quindi mamma la prima azione che fece fu quella di reperire delle armi insomma caserma caribaldi era andata insieme a un amico là a prendere delle armi lei sente un tedesco chiamare un vecchietto che passava e gli chiese dove si trovava il ponte della sanità e mamma allora capì subito corse a dare la notizia infatti poi quando sono arrivati i tedeschi a minare il ponte si trovavano già i partigiani si trovavano già sul ponte appostato mamma nel frattempo era riuscita a prendere ad avere un fucile e in quell'occasione si mise a terra accanto al padre e sparò pure lei sai dove sta la statua l'emiciclo qua a capodimonte la statua dei caduti della prima guerra mondiale qua sotto capodimonte prima del ponte e lei si stesse lì a terra accanto al papà ai giardinetti ai giardinetti bra e sparò il maresciallo le disse non è ma tutto nemmeno che sti vuoi accaduto vieni qua a cercare le armi la presa in giro e lei disse ma perché 23 anni disse maresciallo ma perché scusatemi perché non posso partecipare se ero uomo dice no ma quando mai poi la guarda in faccia e dice siente ma tu vuoi fare una cosa vuoi tentare questa cosa perché i tedeschi si sono asserragliati a vicotrone dentro una fabbrica di scarpe te lo dico in dialetto va forse viene meglio e lei disse e beh che devo fare devi portare la resa scusate maresciallo ma che costruisce questa resa e dice no devi andare là e devi dire che si devono arrendere perché sono circondati guarda che tra le altre cose hanno minacciato di minare il palazzo quindi si riesce a fare questa cosa magari a te non ti sparano la fesserì perché la potevano sparare benissimo disse se ci va un ragazzo ci vanno un artigiano sicuro che lo fanno saltare in anni vabbè ci vado e lei andò lì diciamo parlò pure con quelli che stavano attorno alla fabbrica e disse sentite io sono venuta qua da parte del maresciallo così così da dove una pezza vabbè che posso fare infatti andò andò a bussare proprio alla porta e questi da dentro dice chi sei e lei disse senti io così così e disse quello che aveva detto il maresciallo il palazzo ha cerchiato voi è meglio che vi arrendete altrimenti e loro da dentro la mandarono via una frase che lei diceva sempre i tedeschi dissero nick raus cioè vattene comunque se ne andò ma la resa la portò poco dopo infatti i tedeschi pensando questo uscirono sul di dietro e segnalarono tornando indietro col fucile perché poi il maresciallo tenne fede alla parola le dietro il fucile lei scendendo discesa da salvator rosa all'angolo giù santa teresa dove sta l'ingrocio all'altezza tabaccaio si incontra questo vecchietto e lei incontrò il vecchietto però allo stesso tempo scendeva giù da un sidecar da sopra santa teresa e lei udì ai tedeschi che chiesero al questo vecchietto il ponte dove si trovasse no cioè salivano che sto dicendo salivano dal museo volevano arrivare al ponte e chiamarono questo vecchietto e mamma che stava a pochi passi più su sentì che loro chiesero dove stava il ponte della sanità siccome già sapevano avevano già saputo che volevano fare questa voleva nominare il ponte non è che non lo sapessero non sapevano quanto ecco e lei corse a portare sta notizia e infatti si appostarono tutti sul ponte poi si passarono la voce cursero la e riuscirono a salvare il ponte poi era un ponte era ed è un ponte molto importante pensa che tu collega tutto il nord di napoli questo mondo perché se non ci fosse come se sai bacia sanità adesso diciamo che accessibile perché le stradine ci sono ma all'epoca no ma fu proprio guarda per poco se mamma non si fosse trovata la il ponte saltava perché già era stato minato la situazione è stata così importante che poi le hanno intitolato il ponte della sanità che adesso si chiama ponte maddalena c'era solo certo è tutto merito questo lo devo dire di francesco ruotolo volevo intitolare una strada e invece proprio ruotolo diceva no scusami questo ponte in effetti non c'è un nome cosa ha trovato quando quel giorno è andata ovviamente emozione sicuramente molta emozione ma mi sentivo anche anche contenta perché avevo ero stato partecipe di quella cosa insieme a lui che lui aveva raccolto le firme ma se non ci stava questo libricino qua che andava famosa la vicenda magari non sarebbe sì perché va da questo libro qua diciamo sono nate tante cose l'intitolazione del libro è nata una pista teatrale persone che ogni tanto vengono vedete comprese perché mamma prima si parlava ma non come adesso non come adesso lei come quando vi parlava di queste vicende chi mamma si parlava liberamente oppure era l'estia allora delle quattro giornate mia mamma parlava continuamente tanto è vero che diciamo sempre mangiavamo pane e quattro giornate dopo le quattro giornate fu convocata proprio dai servizi segreti inglesi qua e le dissero se voleva ancora continuare entrò nei servizi segreti lei andò a chiedere al padre il padre le disse soltanto vedi tu però battene e torna come sei andata cioè non cambia non fare niente di e lei disse ma ve lo voglio fare perché in famiglia ci fu una morte che l'ho detto questo ragazzino Naro Capuzzo che era il cugino di mamma in realtà in quel periodo vivevano anche insieme nella stessa casa perché sai la guerra questo e quell'altro e vederlo morire l'aveva molto 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 colpita perché poi è morto in un posto dove stavano insieme allora quel giorno che questo ragazzino è morto stavano sulla terrazza delle filippine e lei mia mamma è scesa un momento per fare questa famosa fotografia che ti ho fatto vedere qua questa qua e allora lei era scesa perché vabbè era sparsa la notizia per per la città comunque qua venne un fotografo del mattino a fotografare i partigiani e mamma e nonno e qualche altro partigiano scesero giù e questa foto è stata fatta fuori santa teresa scesero dal terrazzo delle filippine tu sai di dove sto di chi parla no e scesero e andarono là e fecero queste foto mentre mamma stava così dopo che avevano fatto sta fotografia arrivò la cannonata sopra la al terrazzo dove poco poco prima stava lei col papà e con qualcun altro qua in mezzo che ricordo ha di sua madre che carattere ha avuto te lo dite che carattere ha un carattere molto forte che senso forte severo no no con noi no è assolutamente la mamma dolcissima no 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 qualsiasi principio lei lo portava avanti costasse quello che ma non si fermava davanti a niente cioè io quello che mi chiedo è una persona che ha fatto queste cose che comunque anche un'eroine per la sua città che aveva anche la responsabilità di questo ruolo che ha visto e vissuto tante cose che carattere aveva nella sua intimità in famiglia queste migliori che in presente non avevo messo la stessa dolcezza la stessa dolcezza l'aveva con noi con tutti tutti di famiglia è la stessa è però dentro di lei è rimasta era è sempre stato una guerriera noi diciamo più che altro per amore tanto per perché se lei ha fatto queste gesta nella quattro giornate di napoli le ha fatte perché amava talmente il padre con questo dovresti più o meno capire adesso cioè psicologicamente che persona io io non avevo un'arma cioè come faccio una rivoltella quella la che si mettono i proietti come si chiama dentro quella rotella allora il ragazzo dice la vuoi l'arma e ti dammela